Sì, con questa mozione abbiamo lavorato di comune accordo con l'assessorato, con l'assessore Gaffarotti e con gli altri assessorati di riferimento per andare a migliorare quella che sarà la festa della Befana del nuovo anno di questo dicembre 2018-gennaio 2019. Erano rimasti dei posteggi liberi del ramo artigianale che sono stati messi a bando e i criteri di assegnazione di posteggi per le onlus non avevano permesso alle onlus stesse di potersi impegnare su tutto il periodo. Quindi sono state date la possibilità alle onlus di creare dei calendari personalizzati in base alle esigenze perché è impensabile che un onlus possa essere presente continuativamente tutto per un mese intero presso la festa della Befana anche per iniziative caritatevole perché comunque ci sono dei costi da sostenere per i volontari quantomeno per i rimborsi. Quindi noi stiamo cercando di agevolare e anche collaborando con la sovrintendenza per una migliore dislocazione dei posteggi e per un bando sempre più di qualità sempre più rispettoso sia della tradizione che del decoro che la città merita. Grazie. 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 Grazie.